Colpo di scena nelle indagini sul rovesciamento dello scuolabus avvenuto lo scorso 17 maggio ad Arquapetrarca. L'autista Dennis Pandaru non scappò, anzi si fermò a prestare soccorso aiutando i 13 ragazzini delle scuole medie di uscire dal mezzo ribaltato e prendendo anche i loro zaini. Poi, in un secondo momento, quando incominciarono ad arrivare i soccorsi, lui se ne andò. Per questo motivo il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto di annullare la misura restrittiva dell'obbligo di firma. Il 51enne, autista romeno, rimane però indagato per il reato di fuga da incidente e abbandono di persone incapace. Con lui sono stati iscritti nel registro degli indagati anche i due titolari della SEAF di Este, la società che ha in appalto il servizio scuolabus per i comuni di Arquà, Cinto e Baone. Questa è l'altra novità importante sul fronte delle indagini. I due gestori, infatti, sono indagati per lesioni. Intanto il pubblico ministero ha nominato anche un consulente di parte per accertare se il pullman fosse stato sottoposto alla corretta manutenzione. Quel 17 maggio i ragazzi, a bordo del pulmino che si ribaltò affrontando una curva, rimasero illesi per miracolo, solo quattro di loro leggermente feriti. Quando l'autista venne ritrovato dai carabinieri, venne sottoposto all'alcol test e arrestato per essere scappato dopo aver guidato in stato di ebrezza. Per il magistrato della pubblica accusa, però, non è possibile dimostrare che Pandaru fosse ubriaco mentre era alla guida, perché il test è stato effettuato oltre due ore più tardi dall'uscita di strada dello scuolabus. All'autista, in passato, però, era già stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza. Dopo l'incidente si difese accusando l'azienda della scarsa manutenzione dello scuolabus. Grazie.